Benvenuti ragazzi, in questo primo video andremo ad Alicante ed esploreremo la città. Vi porterò con noi nel tour del fantastico appartamento. Eccoci arrivati alla Basilica di Santa Maria, la splendida città antica di Alicante con queste case colorate, le terrazze e una vista mozzafiato sul mare. Iniziamo a salire verso il castello di Santa Barbara, preparatevi a fare qualche gradino, ma ne varrà la pena, guardate che vista. Ed eccoci in cima, se il video vi è piaciuto restate sincronizzati per nuovi contenuti.